Vediamo che non c'è una riqualificazione effettiva a fronte degli altri nosocomi che invece hanno una riqualificazione. Sono compatti e decisi a non mollare. I componenti del Comitato Cittadino a difesa dell'ospedale di Senigallia indossano una maglia con su scritto, ci sta a cuore l'ospedale. Si sono dati appuntamento di fronte al nosocomio e sviscerato tutto ciò che andrebbe migliorato per evitare il degrado di servizi e opportunità per i pazienti. Se da un lato c'è un sentito grazie a tutti i medici che sono rimasti in corsia, ci sono battaglie che il Comitato sta vincendo come una programmazione dei lavori di ristrutturazione del laboratorio analisi. E poi ci sono situazioni in sospeso da attenzionare. Tra questi punti ci sono le lunghe liste di attesa a fronte della celerità dell'intramenia, i pannolini per pazienti fragili la cui consegna non viene rispettata, i sostegni inadeguati per il caregiver familiare. Ad essere sotto la lente di ingrandimento è la questione parcheggi. C'è la telenovela dei parcheggi perché ne ha aperto uno, ne ha chiuso un altro e sono insufficienti per i dipendenti. A cuore c'è anche la situazione del pronto soccorso. Noi abbiamo un pronto soccorso obsoleto. Abbiamo ricevuto tante promesse mai mantenute. Una promessa che spero venga mantenuta è quella che ci faranno una nuova palazzina del pronto soccorso, praticamente megagalattica, come si suol dire, con emissioni quasi zero e performance a livello anche antisismico. Ma di questo pronto soccorso non abbiamo visto niente. Naturalmente a noi piacerebbe vedere anche il progetto perché siamo cittadini.